Il sistema Lecco perde uno dei suoi cardini. È scomparso Cesare Fumagalli, già segretario nazionale di Confartigianato. Un male incurabile l'ha strappato la vita a 69 anni. Nato a Giono di formazione umanistica, Fumagalli era laureato in sociologia. Esponente della democrazia cristiana, aveva iniziato la sua carriera collaborando con Cesare Golfari ai tempi della presidenza di Regione Lombardia. Entrato in Confartigianato, era divenuto un pilastro dell'associazione da direttore della sede di Lecco, ne era divenuto segretario nazionale. Al termine di questa esperienza era stato scelto da Enrico Letta fra i componenti della segreteria nazionale del Partito Democratico. In passato aveva anche fatto parte dell'Organizzazione Europea delle Piccole e Medie Imprese, oltre che del Consiglio di Amministrazione di diversi istituti bancari. Lascia la moglie e due figli, Michela e Federico. Solo un anno fa aveva presentato un libro dedicato al valore delle aziende artigiane dal titolo emblematico. Piccola impresa, indicativo futuro. In un momento non certo semplice per le aziende, ancora una volta Fumagalli aveva spronato a guardare con fiducia al futuro le opportunità del mercato globale, puntando sulla consapevolezza dei valori alla base delle piccole imprese locali. Un monito che merita di essere riproposto. Qualcuno pensa che il modello di sviluppo debba tutto essere girato ancora verso una dimensione diversa da quella che abbiamo avuto fino a qui. La mia convinzione per la quale cerco di portare nel libro anche una serie di dimostrazioni è che noi abbiamo uno straordinario modello di sviluppo fatto di piccola impresa diffusa sul territorio. Sono caratteristiche che dicono da sole la sostenibilità di questo modello di sviluppo. Vistalago due passi dal centro, malgrate batte tutti. Secondo l'istito immobiliare stilato dai mediatori associati a Confcommercio Lecco, il record dei prezzi nel residenziale in provincia di Lecco spetta al centro storico del comune alle porte del capoluogo. 4.500 euro al metro quadro per un'abitazione in quell'area. Un valore che supera del 10% la quotazione più alta che si registra in città, ovvero nella zona traffico limitato. Qui un box però è valutato 60.000 euro. Cifre intorno ai 4.000 euro al metro quadro si registrano anche a Badia, Mandello e nella zona lago di Valmadrera. Valori che non si raggiungono nemmeno a Varenna, la perla dell'ario. Gli immobili più ricercati e costosi della provincia sono dunque quelli poco distanti dal capoluogo ma con una vista sul lago. Una tendenza che si registra anche nei quartieri di Lecco. Man mano che ci si allontana dal golfo cittadino i prezzi scendono. Anche se in città per una casa nuova non si può spendere meno di 2.300 euro al metro quadro, valore che si registra a Laorca per la precisione. Sulle stesse cifre i prezzi per un appartamento a nuovo nel territorio. A differenza di qualche tempo fa però i valori crollano letteralmente per gli immobili con più di 30 anni. In questo caso la posizione fa poca differenza, il costo si attesta intorno ai 1.000 euro al metro quadro o poco più. Ci sono però comuni nell'Alta Valsassina o in Brianza dove le quotazioni sono della metà. Per quanto riguarda gli affitti, il mercato libero in città quota un bilocale in centro fra i 5 e 600 euro mensili e intorno ai 400 in periferia. I trilocali oscilono fra i 900 euro in centro e i 500 dei quartieri più distanti nel territorio. Prezzi sopra i 100 euro l'anno a metro quadro solo nei comuni a Lago e a Merate. In provincia di Lecco si trova il quinto comune con il reddito medio più alto in Italia. È Varenna dove stando le dichiarazioni presentate nel 2022 ogni residente guadagna in media 38.637 euro l'anno, un valore di poco inferiore al quarto comune in classifica. Portofino. Senza dubbio i numeri della Perla dell'Ario meritano una riflessione in più perché il reddito medio è praticamente raddoppiato fra il 2020 e l'anno successivo passando da 21.804 a quasi 40.000. Sono questi i numeri disponibili sul sito del Ministero delle Finanze. Il reddito complessivo italiano nelle dichiarazioni presentate nel 2022 ammonta 47 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente per un valore medio di 22.540 euro in crescita del 4,5%. Rispetto al 2020 c'è stato un aumento delle persone che hanno dichiarato un reddito superiore a 20.000 euro. La Lombardia registra il valore medio più alto con 26.620 euro. La Calabria e la regione con il reddito medio più basso 16.300 euro. Per quanto riguarda la provincia di Lecco seguono nella classifica dei comuni più ricchi dopo Varenna in provincia Montevecchia 30.615 euro pro capite. In Bersago 28.765 euro e infine Ello 27.611 euro. Fra le città Merate e Battelecco per circa 300 euro con il capoluogo che attesta un reddito medio di 26.215 euro. Quasi tutti in Brianza i comuni con più di 23.000 euro di reddito pro capite eccezione fatta per Corte Nova, Moggio e Oliveto Lario. In Valsassina, unicara della nostra provincia ad avere ancora una banca territoriale, si concentrano invece i comuni con i redditi più bassi, vale a dire sotto i 20.000 euro. Fanalino di coda della classifica, Pagnona, con un valore medio di 14.916 euro l'anno. Servono alloggi per accogliere altri 400 migranti in provincia di Lecco. Servono strutture diffuse sul territorio che ospitino al massimo 50 persone per evitare gli assembramenti. Nuovo bando e nuovo appello della prefettura agli enti locali per cercare di trovare una collocazione a quanti in numero sempre più crescente arrivano in Italia, vengono assegnati dal governo alle singole province. Il prefetto di Lecco ha incontrato a questo proposito il sindaco del capoluogo Mauro Gattinoni e i presidenti dei consigli di rappresentanza dei sindaci e degli ambiti territoriali per condividere un percorso di accoglienza che consenta di acquisire la disponibilità nel territorio provinciale di appartamenti o strutture collettive anche senza destinazione di ricettive allo scopo di evitare eccessive concentrazioni. Servono complessivamente almeno altri 400 posti. La richiesta si insomma a quella già diramata per agevolare l'accoglienza dei 158 migranti che sono stati assegnati alla provincia di Lecco nel primo trimestre 2023. A oggi il sistema di accoglienza in provincia è gestito da diversi operatori sulla base di una procedura risalente al 2021 che a fronte di una richiesta di 670 posti si era conclusa con l'aggiudicazione di 361 posti a 4 gestori. Con gli ampliamenti effettuati successivamente il sistema oggi ha una capacità di poco inferiore ai 500 posti letto con concentrazioni maggiori nei comuni di Eiruno, Ballabio, Cremeno o Malgrate. Le successive gare promosse per trovare nuove strutture di accoglienza non hanno avuto alcun esito. Gli arrivi però non si fermano e servono entro il 30 aprile altri posti letto. Nei prossimi giorni, conclude la nota della Prefettura, sono previsti ulteriori incontri sulla questione dell'accoglienza, la ricerca di soluzioni che appaiono sempre più urgenti e ineludibili. La speranza più che la certezza è quella di riaprire il teatro della società entro la fine del 2024 a 180 anni dall'inaugurazione e a 7 dalla chiusura per lavori, marzo 2017. La parte più complicata è stata ultimata, tolto l'amianto, salvato il dipinto di Sora, terminate le opere impiantistiche e strutturali, costo 2.600.000 euro, compreso il nuovo impianto di raffrescamento, ora sono stati stanziati 3.460.000 euro per il secondo lotto. Il prossimo passo è il progetto esecutivo, pavimentazione, nuovo rivestimento dei palchi, restauro del ridotto, del foyer, dove sono stati trovati i resti di decorazione ottocentesche, del portico d'ingresso, sistemazione di corridoi e bagni. In previsione anche la realizzazione di un nuovo accesso sul retro per gli impianti scenici delle compagnie e la realizzazione di un dehors in metallo e vetro davanti al bar, recuperando pur in chiave contemporanea il prospetto originale. Siamo esattamente nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di un'opera teatrale, se vogliamo stare in questa metafora. La parte più difficile è stata quella del primo tempo, dove sono state fatte delle migliorie strutturali pesantissime, dei rinforzi antisismici, la rimozione dell'amianto, nuovi impianti, compreso quello di condizionamento e poi ovviamente tutto un sistema di messa a norma indispensabile, quindi un lavoro duro, un lavoro hard, che è stato concluso e in questi giorni sta per essere collaudato. Partirà poi il secondo tempo che invece parlerà tutta un'altra lingua, parlerà la lingua dei velluti, dei rivestimenti, dei nuovi affreschi di cui avremo modo di dialogare con la cittadinanza e questo secondo tempo un po' più estetico avrà comunque il pregio di essere il colpo d'occhio finito che tutti i cittadini e tutti coloro che entreranno nel teatro avranno l'occasione di sperimentare. Oggi siamo però nell'intervallo, saranno i prossimi otto mesi in cui vogliamo ricostruire con la cittadinanza un dialogo attivo, anche con gli sponsor, per far comprendere il tanto che è stato fatto nel silenzio e quanto invece verrà fatto da qui in avanti, magari anche con il contributo generoso di alcuni cittadini. Il terzo tempo, come nelle partite migliori, si giocherà invece poi nella funzionalità del teatro, nella qualità delle opere, delle rappresentazioni, delle stagioni che lì verranno ospitati a partire appunto dalla stagione 24-25, questo è il nostro auspicio. Direi che con oggi apriamo ufficialmente un momento di confronto con la cittadinanza che credo sarà di grandissima soddisfazione da parte di tutti. Un codice rosso al giorno, una denuncia di violenze e maltrattamenti ogni due, una ventina di fascicoli aperti ogni mese dalla procura di Lecco, 290 solo lo scorso anno, 160 per maltrattamenti, 65 per stalking, 64 per le violenze sessuali, la piaga della violenza sulle donne, in pochi casi le vittime sono uomini e per lo più se lo sono, si tratta di minori, diventato un'emergenza dopo il Covid. Almeno una denuncia al giorno, sono denunce, sono fascicoli che richiedono dal punto di vista dell'impegno da parte e della Polizia Giudiziaria e dei magistrati un notevole dispendio di energia e un tempo congruo per poterli istruire in maniera appropriata. Sono fascicoli che solo per dare un dato impegnano quattro dei cinque sostituti che sono in servizio alla procura di Lecco. Ricordiamo che quando scatta il codice rosso la persona deve essere sentita in audizione protetta entro tre giorni. Esatto, una disposizione specifica della legge dell'agosto del 2019 che ha dato questa disciplina particolare per questo tipo di violenza domestica impone che la persona offesa dal reato venga sentita in teoria personalmente dal magistrato nei tre giorni successivi all'inoltro della notizia di reato. C'è stata un'esplosione dopo il Covid? C'è stata un'esplosione perché il lockdown ha portato ad una esacerbazione delle criticità e delle intolleranze domestiche mentre altri tipi di reato sono diminuiti per ovvi motivi perché non si poteva uscire. La convivenza forzata ha esasperato certe già situazioni magari critiche in cui uno si barcamenava ma che hanno visto una esplosione di questi casi di violenze, soprusi, minacce, angherie, anche non comportamenti connotati da un intervento fisico ma peggio ancora psicologico. Tutte le fasce d'età, tutte le categorie sociali, italiani, stranieri, insomma la violenza è trasversale? La violenza è assolutamente un reato trasversale che prescinde dal ceto sociale, che prescinde dal titolo di studio, che prescinde dalla provenienza geografica, è un qualcosa che noi rinveniamo in tutta la società. Lavori fermi al nuovo tribunale, ennesima grana per il cantiere ormai ventennale per l'ampliamento di Palazzo di Giustizia. Il nuovo stop è causato da alcune lacune nella progettazione dell'opera realizzata per conto dal Comune nel settembre 2020 e validata anche da una società esterna al provveditorato alle opere pubbliche, ente che si sta occupando del cantiere, ha ritenuto ora carente il progetto da un punto di vista strutturale, ha fermato i lavori, incaricando un terzo professionista per le integrazioni. Sollecitata dai consiglieri di minoranza Corrado Vassecchi, Antonio Rossi, l'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi ha tracciato il quadro dei problemi e delle possibili soluzioni. Non abbiamo ancora ad oggi i tempi di progettazione e di restituzione dell'integrazione progettuale, oggi mi ha informato il RUP del provveditorato che ha avuto un incontro con l'ingegnere strutturista incaricato di redigere l'integrazione del progetto e dovrà essere effettuato un piano di indagini ulteriore perché quello a corredo del progetto esecutivo risulta carente, ha notato una forte carenza di acciaio dal punto di vista strutturale nel teatro, adducendola al fatto che il teatro è stato costruito negli anni 42 per cui in fase bellica le esigenze erano altre e per cui anche su questo aspetto rispetto ad alcuni aspetti tecnici ad oggi del progetto esecutivo che prevedono l'utilizzo di fibra di carbonio più che acciaio faranno le valutazioni se invece andare a sostituire con maggior acciaio. L'importo della parcella del nuovo strutturista al quale è stato affidato l'incarico è di 37 mila euro più IVA, si andrà, mi informavano oggi, verso una sospensione totale in quanto le lavorazioni parziali che adesso potevano essere effettuate e le hanno fatte, adesso c'è la necessità di andare ad effettuare i lavori proprio dal punto di vista strutturale. Prezzi stabili, vendite in crescita, sorride dopo la pandemia il mercato immobiliare in provincia di Lecco, compravendite in aumento in città, nei comuni del lago dove crescono anche gli investitori stranieri. Il mercato immobiliare arriva da un 2022 molto positivo, Lecco ha avuto un incremento del 12% di compravendite andando a toccare i dati pre, diciamo, crisi del 2012. La provincia ha tenuto bene e ha avuto un incremento del 5%, quindi in linea con il dato nazionale e quindi diciamo che arriviamo da una situazione molto favorevole, anche in conseguenza un rimbalzo che ha avuto il mercato post pandemia, quindi sicuramente positivo. In città sicuramente i tagli sono quattro locali perché diciamo il post covid ha fatto sì che molte famiglie cercassero appartamenti con una stanza in più per lo smart working o per avere più spazio a disposizione anche per curare i bambini piuttosto che un aiuto in casa. I bilocali sono un altro taglio molto richiesto in quanto l'investitore si sta spostando sull'acquisto immobiliare, viste anche gli scossoni finanziari ultimi e di conseguenza il bilocale diventa un ottimo investimento da mettere a reddito con dei guadagni immediati, quindi io compro l'appartamento, lo rogito, dopo una settimana sono già in grado di avere un inquilino che mi paga il canone. Unico settore con qualche criticità il comparto industriale. La crescita che abbiamo visto esponenziale è sulla parte del lago che è comunque sempre più attrattivo rispetto a quelle che sono sia i turisti che gli investitori perché comunque è una zona, la nostra, che è ancora cerba se vuoi rispetto a altre altre zone ma con grandi grandi margini di crescita, quindi sicuramente c'è l'interesse anche di investitori esteri che si stanno affacciando sul lago. Il mercato industriale invece è un mercato che in questo momento ha una problematica fondamentale che è la mancanza di stock, quindi nonostante ci sia un'offerta bassa la richiesta è veramente molto alta. Le prime piogge dopo un inverno e una primavera senza acqua in un territorio fragile come quello lecchese, tanto è bastato per provocare l'ennesimo smottamento e mandare la viabilità in tilt. Detriti e fango sulla strada nel punto dove lo scorso dicembre grossi macigni sono rotolati dalla montagna all'imbocco della Galleria Giulia colpendo un furgoncino in transito. Ancora una mattinata di passione con la chiusura della nuova Lecco Ballabio, la diramazione della soppessa Rada 36 che porta in Valsassina per più di 12 ore. Poco dopo mezzanotte una colata di fango è scesa sulla carreggiata, uno smottamento di modeste dimensioni provocato dalle violenti precipitazioni delle ultime ore dopo un lungo periodo di siccità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia stradale, i pompieri hanno monitorato la situazione anche con l'ausilio delle foto elettriche. In mattinata le operazioni di pulizia della carreggiata, i sopraluoghi effettuati hanno confermato che non ci sono stati nuovi distacchi di massi, ma per procedura sono scattate le verifiche di sicurezza. Poco prima di mezzogiorno la statale è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, dopo che per tutta la mattina il traffico è rimasto completamente paralizzato, con 3 km di coda all'interno del tunnel del Barro in direzione nord e forti rallentamenti lungo la vecchia strada della Valsassina. Per la gestione dei mezzi pesanti sono stati riattivati i movieri, con i tir che hanno potuto transitare a senso unico alternato. Nel punto del distacco, uno smottamento fortunatamente di piccole dimensioni, sono in corso i lavori per realizzare un'ulteriore barriera para massi e un vallo con un'argine con terra armata di contenimento. La strada, dopo la frana nel dicembre, era stata riaperta il 10 gennaio.